... Liberi.tv Riccardo Cristiano, come promesso giusto ieri, siamo in compagnia di Antonio Saffioti, primo Pride Cosentino. Ciao a tutti, siamo felicissimi di essere qui. In prima linea, in prima fila, con la maglietta del lupo, è pronto insomma a manifestare anche lui. Cioè, ragazzi, sono venuti tutti, è venuto lui qua a dire che i diritti sono di tutti, giusto? Certamente. Ragazzi, io niente, vi auguro un buon Pride e nulla, penso che glielo auguri pure tu Antonio, vero? Certo, buon Pride a tutti. Liberi.tv, Cosenza. Grazie a tutti.